della ripresa, una ripresa più intensa. Tra me per Bentivoglio respinge ma male Buffon e si avventa sulla palla Paloschi che esulta ma si accorge che Preti primo assistente ha segnalato il fuorigioco non ci sta Paloschi poi arriva Sardo soprattutto a protestare con il collaboratore dell'arbitro e viene ammonito rivediamo, quando tira Bentivoglio Paloschi è tenuto in posizione decolare da